E' un'opera d'arte e nessuno l'ha capito. In questi luoghi è proprio la disuniformità a creare l'elemento onirico, è proprio l'irregolarità di questo pavimento, l'irregolarità di questo tavolo, l'irregolarità di questo muro a creare l'elemento emozionale di questi luoghi. I sassi di Matera sono uno spazio geografico che si è fatto a storia. E' il valore di una esistenzialità geologica. Questo è Matera. Matera non è vecchia, Matera è sempre esistita. E' una delle città più antiche al mondo. Matera è donna, non si discute, è madre. La storia della città di Matera non è quella delle grandi imprese, battaglie, eroi generali. E' ogni pietra, è la storia raccontata in ogni pietra. ed iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti.